avete completato la storia principale del gioco ora avete dlc avete tutti i season pass e cosa dovete fare come si fa l'endgame di borderlands 3 beh adesso lo vediamo quindi ovviamente quello che vi dirò in questo video è quello che penso sia la strada giusta da fare non quello che deve essere per forza ognuno può giocare tutti i contenuti nell'ordine che vuole detto ciò partiamo con cosa fare appena finita la storia nel mio caso il mio primo suggerimento è una volta finita la storia fare i 4 dlc principali nell'ordine in cui sono usciti così da provare tutto il resto della storia che ancora rimane e poi ottenere un po dei loot nuovi una volta fatti questi 4 dlc che vi posso assicurare per farli tutti e 4 ci vorrà almeno lo stesso tempo di fare tutto il gioco se non di più potrete passare a raggiungere il livello 72 nel caso non ci siate ancora secondo me è possibile che ci siate già arrivati anche solo finendo la storia del gioco ma nel caso fatevi qualche farm farmate qualche boss giusto per ottenere una monarch magari nel mentre in questo modo potrete essere pronti ad andare ai livelli caos come continuare adesso siete arrivati a caos 1 caos 2 diciamo in base a quanto vi sentite sicuri di riuscire ad andare avanti in questo caso vi consiglio di giocare nelle slouter shaft può essere quella di pandora può essere quella probabilmente può essere la slouter 3000 e giocare lì aumentando pian piano il livello mayem ogni volta che raggiungete un nuovo livello e non riuscite più ad andare avanti tornate ai boss della storia principale o dei dlc che avete già sbloccato e andate a farmare di nuovo gli oggetti che vi servono per la build in questo modo potrete ricominciare a fare di nuovo slouter e le varie cose in modo da raggiungere alla fine caos 10 e una volta raggiunto caos 10 mettere caos 11 e non toglierlo più una volta quindi raggiunto caos 11 vi consiglio di andare a recuperarvi tutte le secondarie di dlc e gioco base che potreste aver lasciato lì mancato eccetera in modo da poter ottenere quel poco di loot che vi è rimasto per poter sbloccare tutti i bili boss vari e necessari per fare la vostra build e una volta che avete fatto ciò sarà il momento di pensare a una build con cui lavorare a caos 11 ora potrebbe darsi che nella build che avete in mente servano dei drop e dei pezzi di armi che potrete ottenere solo ed esclusivamente con i contenuti di cui non abbiamo ancora parlato ma fidatevi già con questi 4 dlc storia principale riuscirete a farvi quasi ogni build una volta che avrete una build buona a caos 11 è tempo di aumentare le difficoltà bisogna fare le 6 prove disciplina astuzzi eccetera eccetera ho già fatto anche le guide sulle vere prove adesso che sono disponibili che vi danno la possibilità di ottenere alcuni loot aggiuntivi e una volta fatte le vere prove è tempo di fare la parte veramente veramente difficile i takedown partite ovviamente dal takedown maliwan che è quello più facile dei due e anche quello fatto meglio dal mio punto di vista soprattutto butan ha molti drop che vi potrebbero servire stessa cosa le valchirie e quindi sfruttateli bene una volta sconfitto del tutto quello di maliwan che siete sicuri di riuscire a farlo senza problemi passate a quello dei guardiani quello dei guardiani è molto ma molto più difficile non solo per la difficoltà dei nemici e dei boss ma anche perché se cascate una volta dovete ricominciare ci sono molti pezzi di platforming e parkour quindi state attenti a come vi muovete una volta che anche qui riuscirete a fare il takedown dei guardiani senza problemi allora è tempo di andare a ottenere quei pezzi di arma che vi possono servire come il globetrotter light speed eccetera dal takedown dei guardiani una volta finito quello rimangono ormai gli ultimi contenuti le missioni serio misterio di Ava che vi porteranno a combattere contro il veggente che è un semi raid boss praticamente anche se vi consiglio di fare prima le missioni non fare il veggente e andare a fare gli eventi in questo modo potrete ottenere quel loot che ancora vi può mancare visto che i boss sono praticamente dei raid boss e sarete pronti per il veggente che sarà molto ma molto più difficile dei boss finali degli eventi una volta che sarete riusciti a eliminare anche il veggente non vi dovrete preoccupare di farlo di nuovo semplicemente perché tutti i suoi loot potrete ottenerli anche dagli altri boss del DLC quindi non sarete obbligati a farmare lui a questo punto vi rimane l'ultima cosa l'obiettivo più difficile eliminare emovora sarà un combattimento molto molto duro l'ho già mostrato con un video integrale il combattimento è con una build che fino ad allora era una build perfetta quanto ci vuole ad eliminarla spoiler veramente tanto e una volta che avrete eliminato emovora dal mio punto di vista potrete ritenervi soddisfatti e avrete completato l'endgame con tutti i possibili boss l'unica cosa che vi rimane da fare nel caso non vogliate prendere un altro personaggio e rifare tutto il procedimento è quello di andare in New Game Plus e dal New Game Plus rifare tutta la storia di Borderlands fare i DLC e di nuovo tutti i boss prove eccetera caos 11 con la build che avevate già senza mai cambiare nemmeno un oggetto questa è diciamo quella che può essere considerata la prova finale per la vostra build per vedere se funziona tutto come dovete ovviamente lo scopo è quello di morire il meno possibile e completare la storia il più velocemente possibile quindi questi erano più o meno tutti i contenuti fino ad ora se mai verranno aggiunti altri contenuti a Borderlands 3 ovviamente questa sorta di guida all'endgame andrà rimodificata e ne parleremo in futuro detto ciò se volete vedere alcuni metodi per raggiungere caos 10 o caos 11 nel modo più facile e veloce possibile cliccate qui grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti